Gli operatori della squadra volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico della Questura hanno tratto in arresto un 72enne crotonese indagato del reato di stalking nei confronti della sua ex moglie e del suo nuovo compagno dando esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Crotone. L'uomo, sebbene fosse già destinatario della misura personale del divieto di avvicinamento alle ex moglie e al nuovo compagno emessa a seguito di sentenza di condanna di primo grado, intervenuta per fatti analoghi nello scorso mese di maggio ha provocato alle vittime minacce e molestie, inviando diversi messaggi dal carattere chiaramente minatorio obbligandoli a mutare le proprie abitudini di vita. Pertanto, all'esito delle indagini, la Procura della Repubblica ha richiesto una idonea misura cautelare al GIP che ha emesso il provvedimento restrittivo in regime di arresti domiciliari.